coccodrilli siamo tornati siamo tornati siamo tornati eccoci qua questa è un'avventura che mi piace particolarmente va allora nonna maria c'aveva furgone che vendeva ma adesso i cazzi miei ti hai messo lì non è da dire niente che è tornato a far spesso al supermercato mi racconta tutti i cazzi miei allora restabiliamo un attimo la tranquillità che volevi dire che siamo tornati come si coccodrilli siamo qui per un'altra puntata delle avventure del nonno paustino ma meglio conosciute come le avventure del fa le avventure le avventure del fa sigla le avventure del fa andiamo avanti un po di anni fa c'erano un banco al mercato i nonni la nonna e vendevano articoli da bambino ok da 0 a 14 anni io c'avevo la golf c'era una golf nonno nonna è partita è andata a foligno dal mercato all'ingrosso a comprare la roba perché fa l'assortimento fa l'assortimento quindi ha fatto spesa è tornata ha messo la macchina sotto casa e poi mi ha chiamato e mi ha detto vieni vieni qua a scaricare la macchina e io dalla finestra vedevo una macchina ma non era la mia in che senso ma quella non è la macchina mia come è nella tua state lì fuori valla a scaricare ma che scarico che quella non è nella macchina mia come nella tua no non è la mia guarda io e tu l'hai presa a me ma allora ti dico io rosario eh ti dico cittate scope tu serveste le mesi alzate ah tocca a metterle bavagli per fare questa zitta ma stiamo a bambini Ti ha ragione Ma ci vado, ci vado a fare queste cose. Ma come ci vado? Quindi, che ti diceva nonna? Mi diceva, va a scaricare la macchina, ma non è la mia questa. Come non è la tua? No, non è la mia, non è la mia. Non la vedi? Che questa c'è la tappezzeria nera, la mia c'è la blu. Ah, è vero, è vero. Ho scaricato la macchina. Ma era scaricata, la scaricata. Io avrei voluto vedere questa scena, perché adesso lo racconta tranquillo. Ma nonna Marie, com'era? Eh, com'era? E che? Era arrabbiato, perché come si fa a scambiare la macchina? Che ne so che ha fatto. Com'era, com'era nonna Marie? Era arrabbiato. Come? Eh, come sempre. Ah, beh, come lui. Non era, urlava. Quindi? Ma come si fa a scambiare la macchina, a scambiarla? Come si fa, vorrei sapere. Ho preso la macchina e sono nato a Poligno. Eh. Fortuna che quello ancora non era uscito. Quindi c'erano due macchine uguali? Erano due macchine uguali. Erano bianche, tutte e due. Ma la mia c'era la tappezzeria blu. E quella la tappezzeria nera. Io ho visto che non c'era nessuno. Ho lasciato quella e ho preso la mia e sono venuto a casa. Io, quello non era uscito ancora, ma neanche neanche. Morale della favola, una volta le chiavi le lasciavano dentro. Pensate quanto era tutto in tranquillità. Adesso bisogna avere paura anche quando... Era un cappannone grande. Davanti c'era il recinto, c'era tutto. Però le chiavi le lasciavano dentro. Ma le chiavi chi le levava? Chi te la piava la macchina? Adesso? Adesso non sono da levare le chiavi. Le hai chiudere per bene perché non te la pregano. Ma adesso ce le lasceresti le chiavi sulla macchina? No! E' un Picasso matto. Quindi questa era sta storiella, sta avventura del fa che a me piaceva particolarmente, vero? Eh beh. Salutiamo tutti. Saluta. Arrivederci. Arrivederci a tutti i compadrilli. Ciao. Meio. Ma vaffanculo. Che è meglio? Ciao a tutti. Sempre meglio. Alla prossima.